Lo dico fuori da dove abbiamo detto, ma come, vai a Salerno e non a Napoli, siamo a Salerno, al di là ovviamente del rispetto per il santo, San Matteo, non Sant'Enzo di Luca, San Matteo e nemmeno il Matteo, quello vero, è l'unica città che è al santo che si chiama Matteo, quindi io sono particolarmente innamorato di questa città, ma al di là delle battute.